Una storia che parte da lontano Una storia che vive di passione Una storia, la nostra storia Una storia che scrive un nuovo capitolo Oggi più che mai Ciao, sono Mister Donati Per costruire una grande stagione Fatta di successi Abbiamo bisogno di tutti voi Perché potete darci una grande mano Noi ci metteremo il massimo del nostro impegno in campo Però veramente abbiamo bisogno di voi Quindi forza Legnago e diamoci dentro